Oggi torniamo a parlare di mobilità e in particolare di mobilità elettrica. Qualche puntata fa, ve lo ricorderete, ci siamo confrontati con CA Autobank su come i nuovi trend della mobilità stanno cambiando l'offerta di credito al consumo. In questo episodio invece abbiamo incontrato Rifilla o Refilla, che dir si voglia, gli stessi founder ci hanno infatti detto che entrambe le pronunce vanno bene. Rifilla è una startup italiana che ha sviluppato un device che è alla base di un servizio di ricarica mobile e su richiesta per veicoli elettrici. La startup però sta lavorando anche a una espansione della propria offerta. Insieme a Gabriele Bergoglio, uno dei co-fondatori di Rifilla, racconteremo come la startup sta collaborando con aziende di diversi settori, compreso quello assicurativo, e avremo modo di accennare anche alla gestione delle batterie dei veicoli elettrici, uno dei temi chiave per la sostenibilità della nuova generazione di veicoli. Vi aspettiamo con l'intervista subito dopo la sigla. The Fine Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Gabriele, iniziamo come sempre, in realtà nei nostri episodi, da una breve presentazione. Che cosa fa Rifilla e come vi è venuta questa idea? Allora, Rifilla è una startup innovativa nata nel 2021. L'idea nasce da me, Marco e Pietro, gli altri due co-founder. Noi lavoravamo nella stessa azienda allora, ci siamo conosciuti durante un MBA, a cui abbiamo partecipato tutti e tre, e al termine proprio di questo MBA, vedevamo davanti a noi la mobilità cambiare. Capivamo che c'era in atto una nuova tecnologia, una nuova rivoluzione, la mobilità elettrica, e ci piaceva l'idea di provare a essere protagonisti di questo cambiamento e di quest'onda. Uno dei problemi riguardo a questa transizione era sicuramente la ricarica, la ricarica delle auto elettriche, e quindi mi ha detto perché non proviamo a dare noi un aiuto a superare questo problema, e così nasce Rifilla, con l'idea proprio di provare a accelerare la transizione verso una mobilità più green. Cosa facciamo? Creiamo opportunità di ricarica attraverso dei dispositivi che progettiamo, costruiamo e commercializziamo. Si chiamano filli, sono sostanzialmente dei battery bank per auto, con cui possiamo fare diverse attività, diversi servizi. Tra questi c'è proprio il servizio di ricarica on demand, quindi un sessore di auto elettrica può richiedere una ricarica sul posto, noi raggiungiamo il veicolo e la ricarichiamo. Ecco, leggendo la descrizione un po' della vostra attività, mentre stavamo preparando anche un po' le tematiche per questa chiacchierata, leggevo della vostra piattaforma IoT proprietaria, che immagino siano proprio questi dispositivi di cui ci parlavi prima. In che modo questa piattaforma può aiutare chi guida o chi sta pensando di guidare, di acquistare o perché no, di noleggiare un'auto elettrica? Oltre al servizio di ricarica on demand, su cui torniamo a breve, che cosa offre questa piattaforma? L'idea base è quella di avere un asset che possa comunicare qualsiasi tipo di informazione ovunque sia ad una piattaforma centralizzata da cui poter attingere qualsiasi tipo di informazione. I nostri dispositivi ovviamente sono connessi, in grado quindi di trasmettere questo tipo di dato, ed è una piattaforma con diverse sfaccettature. Da una parte è utile a noi, che ci dà la possibilità di controllare quindi dove sono i nostri dispositivi, quale cliente li sta utilizzando, in quale parcheggio. Spesso noi questi dispositivi proprio li noleggiamo, li noleggiamo ad aziende, li noleggiamo a terzi, e quindi è importante per noi fungere, offrire un servizio di monitoraggio continuo su questo tipo di dispositivi, e questi clienti stessi, queste aziende, ci chiedono poi di sapere come sono andate le ricariche, quante ricariche hanno fatto, quante energie hanno erogato, e noi siamo quindi in grado di fornire report settimanali, mensili, a seconda dell'esigenza, e soddisfare quindi le loro richieste. Già mi immagino qualcuno che starà pensando, beh ma che senso ha avere un'auto elettrica per poi spostare un mezzo per portarle la ricarica. Questo mezzo diciamo che fa il servizio di ricarica on demand, ovviamente è a sua volta elettrico. Assolutamente sì, il bilancio di sostenibilità deve essere sempre inattivo, sempre verde, assolutamente, quindi noi utilizziamo solo mezzi elettrici per fare il nostro servizio di ricarica. Ti dirò di più, siamo talmente attenti alla questione di sostenibilità a tal punto da utilizzare all'interno dei nostri dispositivi batterie di seconda vita. Cosa vuol dire? Che prendiamo le batterie che hanno avuto una prima vita all'interno delle auto, siamo in grado di estrarre i moduli, qualificare, capire quale modulo è ancora adatto ad avere una seconda vita, magari non è più utile alla trazione di un veicolo, ma può ancora fungere da semplice accumulo, quindi noi siamo in grado di qualificare questi moduli, capire quali sono i doni e li riutilizziamo all'interno dei nostri dispositivi, quindi di fatto stiamo aumentando la vita utile delle batterie, aumentando, massimizzandone l'efficacia, riducendo lo sfruttamento legato alla costruzione di nuove batterie, di nuovo litio. Insomma, è un'economia virtuosa e circolare che si viene a creare grazie al nostro riutilizzare batterie di seconda vita. Ed è anche uno spunto interessante per chi magari continua a dire che le batterie non possono essere riutilizzate. Assolutamente, assolutamente. In generale è bene sempre cercare di non fermarsi alle apparenze, titoli clickbait che ogni tanto si leggono, non si trovano sui social, ma approfondire perché le opportunità ci sono sempre. Certo, e poi la tecnologia qua sta andando talmente veloce che... Velocissima. Chissà. Chissà quali altri problematiche attuali della mobilità elettrica potrà risolvere nei prossimi anni, ma proprio su questo mi chiedevo, il vostro servizio, parlo di quello, se vuoi, principale di ricarica on demand, in quali contesti può essere utile? Perché chi magari vive in un centro urbano o nella grande città vede effettivamente una crescita delle colonnine, come si chiamano banalmente. Però ci sono diversi contesti in cui non è così facile ricaricare un'auto elettrica. Sì, noi in generale ti devo dire che tifiamo proprio per l'aumento dell'infrastruttura fissa nelle città, perché significerebbe veramente un passo in avanti fortissimo verso un'adozione di massa della mobilità elettrica, cosa che in Italia non è proprio ancora a quei livelli lì. In generale riteniamo che ci sarà sempre una quota parte di spazio utile alla ricarica on demand. E ti dirò di più, il dispositivo Unirefilla ha poi suscitato un interesse particolare proprio come dispositivo in sé, quindi non tanto il servizio, ma aziende, parcheggi, società che si occupano di road assistance, società che oggi magari invece si occupano di gestire la logistica dei veicoli finiti. Pensiamo ai porti pieni di auto elettriche che stanno lì in stock anche per qualche tempo. Ecco, tutto questo interesse verso il dispositivo ha fatto sì che parte del nostro business diventasse poi proprio il noleggiare i dispositivi a terzi, noleggiarli ad aziende, noleggiarli a parcheggi. Ovviamente non ci si vuole fermare qua poi, lo spunto, l'obiettivo di Refill è quello poi di allargare il portfoglio prodotti. Refill è partita con una soluzione per la mobilità. Però la mobilità è solo uno dei vari aspetti che si sta elettrificando nel nostro quotidiano. Vediamo un'ottima opportunità nel pensare il nostro dispositivo come anche un energy storage domestico, quindi che si possa collegare alla rete domestica un impianto fotovoltaico, piuttosto che pensiamo che si possa espandere il portfoglio di prodotti con magari un prodotto più piccolo oppure uno più legato al mondo off-road, off-grid, insomma, un ventaglio di possibilità veramente aperto. Avete partecipato anche al programma di accelerazione di Vittoria Hub con cui abbiamo collaborato tante volte per realizzare congiuntamente degli episodi. Che esperienza è stata e soprattutto come potete collaborare con il mondo assicurativo? Beh, gli amici di Vittoria Hub hanno contribuito alla crescita di Refilla nelle sue prime fasi attraverso appunto questo programma di accelerazione assolutamente profondo nei contenuti e soprattutto negli sbocchi commerciali proprio nel senso di accelerare il go-to-market di una start-up verso una posizione poi commerciale tanto che si è poi concluso questa esperienza di accelerazione con un vero e proprio POC che abbiamo sviluppato insieme a Vittoria Hub quindi abbiamo avuto la possibilità di offrire loro ai dirigenti di Vittoria Hub un servizio di ricarica on demand sulla città di Milano questo secondo me è un po' il valore aggiunto che possiamo dare alle aziende in generale alle aziende di assicurazione che sono sempre più legate sempre più interessate ad offrire servizi intorno all'auto ecco che quindi il servizio di ricarica può essere uno dei tanti tasselli che viene aggiunto in un pacchetto omnicomprensivo di servizi intorno all'auto Gabriele grazie mille per essere stato nostro ospite oggi no grazie a te Alberto mi è fatto molto piacere presentarvi Refilla e niente se qualcuno avesse qualsiasi domanda sa dove raggiungermi quantomeno sui social o sul sito